scuole turbolente a pesaro settimana di violenza e vandalismi altro picco di contagi via alla terza dose di vaccino agli over 40 pesaro sull'intera via si abbattono alberi per ripiantarli nuovi sport vl ultima in classifica che prova a rianimarsi a cremona una buona serata a tutti voi telespettatrici e telespettatori di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale che in questa serata di venerdì 19 novembre apriamo con la cronaca ha infatti dell'allarmante quanto accaduto questa settimana in alcune scuole superiori pesaresi fra episodi di aggressioni di studenti rivolte ai professori intimidazioni e vandalismi negli istituti vediamo tutto in questo primo servizio studenti che colpiscono o minacciano i propri docenti due episodi di violenza e intimidazioni nel giro di due mattinate scolastiche e quanto accaduto negli ultimi giorni all'ipsi a benelli dove mercoledì gli uomini della squadra volante di pesaro sono intervenuti per rispondere alla chiamata d'aggressione di uno studente 17enne nei confronti di un professore un episodio al vaglio delle indagini ed ai contorni ancora da chiarire al di là del fatto certo che mercoledì è intervenuta l'ambulanza che ha trovato il professore in questione sdraiato a terra dal colpo ricevuto ancora nebulosi modi e motivi di un'aggressione che finita sulla scrivania della procura ieri altro episodio in una classe dello stesso istituto benelli in cui un docente sta per riprendere il comportamento indisciplinato di un alunno intimando la possibilità di una nota e per tutta risposta riceve minacce comprese un eloquente ti spezzo le gambe l'episodio degenera mezz'ora dopo quando il sedicenne facinoroso assieme a un coetaneo decide di prendere un estintore e svuotarne il contenuto nei corridoi la dirigenza scolastica allora chiama i carabinieri e si trova a che fare con un sedicenne già denunciato alle forze dell'ordine per danneggiamenti di luoghi pubblici scatta una seconda denuncia per danneggiamenti e per minacce a pubblico ufficiale quale è un docente episodi allarmanti sul quale da lunedì verrà aperta un'indagine interna alla scuola al rientro a pesaro della preside anna maria marinai che in questi giorni è a lisbona in occasione di un viaggio erasmus sempre ieri i carabinieri sono invece intervenuti anche al vicino bramante genga dove tre studenti estranei alla scuola sono entrati nell'edificio e hanno creato disordini mettendo a suo quadro aule e corridoi con atteggiamento di spavalderia nella concitazione del momento un insegnante ha finito per fratturarsi il dito di una mano episodi molesti anche sui campi da calcio giovanili la polizia di urbino infatti sta identificando i responsabili dei disordini avvenuti in occasione della partita urbino fermignano categoria juniores tenutasi lo scorso sabato la partita è stata seguita infatti da un consistente gruppo di tifosi ospiti per lo più provenienti dalla partita che la prima squadra aveva disputato a fermignano nello stesso pomeriggio nel corso del match alcuni supporter ospiti hanno lanciato fumogeni e esposto uno striscione offensivo nei confronti dell'urbino oltre al fatto che un gruppo di persone è addirittura riuscito ad accedere agli spogliatoi aggredendo un dirigente della società urbinate con l'invito diretto ad alcuni giocatori a partecipare ad una sorta di regolamento di conti che avrebbe dovuto tenersi la sera stessa in una discoteca dell'entroterra tifosi che all'arrivo delle forze dell'ordine si sono allontanati dandosi alla fuga purtroppo altro picco di contagi 390 in un solo giorno oggi nelle marche di cui ben 128 nella provincia di pesaro urbino si tratta della cifra più alta dalla scorsa primavera con un 16 per cento di tamponi positivi al contagio e un'incidenza che schizza a 124 casi settimanali ogni 100.000 abitanti restano stabili ricoveri con 88 casi di cui 21 in terapia intensiva purtroppo anche oggi si contano tre decessi si tratta di un uomo di 75 anni di fermo uno di 89 anni di serra dei conti e una donna di 85 anni di senigallia e proprio nelle marche da lunedì 22 novembre alle ore 10 potranno prenotare la terza dose di vaccino anti covid anche gli over 40 che hanno effettuato la seconda dose da almeno sei mesi potranno prenotarsi indipendentemente dall'età anche i caregiver e cambiamo argomento a pesaro nella zona mare in viale venezia sta per essere abbattuto quasi l'intero patrimonio arboreo della strada che è arrivato a fine vita verranno però piantumati ancora più alberi in una operazione di rigenerazione del verde effettuata da aspes spa in accordo con le associazioni ambientaliste e naturaliste ci troviamo in viale venezia in piena zona mare di pesaro e l'albero che vedete qui al mio fianco è una delle 53 robinie che da lunedì 22 novembre verranno abbattute su questa via una grande operazione di rigenerazione ambientale scelta attraverso l'operazione di aspes spa in concordato con il quartiere e anche il parere positivo di associazioni ambientaliste verranno abbattute 53 robinie a fine vita e anche ritenute pericolose soprattutto durante i periodi di forte ma al tempo al loro posto verranno ripiantumate altre 69 piante di diverse essenze sono arrivate veramente a fine ciclo vitale negli ultimi due anni abbiamo dovuto fare una ventina di interventi proprio per la messa in sicurezza perché ad ogni fortunale importante insomma che stanno aumentando dietro il cambiamento climatico abbiamo avuto piante che sono cadute rami molto grossi che sono sbrancati quindi mettendo proprio in pericolo le persone e le cose quindi prima di tutto la sicurezza in secondo luogo anche il livello ambientale perché faremo come ho detto una ripiantumazione noi andremo in maniera gradale da qui alla primavera alla sostituzione di quello come dicevo prima che il patrimonio quindi abbattimento carottatura e successiva piantumazione di essenze che non saranno tutte uguali ma che verranno così scelte sulla base morfologica del della via quindi se c'è un palazzo potrebbe essere c'è una pianta più grande un'essenza più grande se c'è la casa schiera potrebbe essere una pianta più piccola così via dicendo proprio per cercare di far vivere convivere al meglio la residenza con l'esigenza ambientale anche con la bellezza che un viale alberato può avere e dunque alberi che vengono abbattuti ma anche alberi che vengono ripiantati da via le venezia a via paterni dove ci troviamo ora abbiamo un esempio di rigenerazione di piante dopo un'analoga operazione effettuata alcuni anni fa operazione che come detto ha l'avvallo delle associazioni ambientaliste del territorio essere ambientalisti e naturalisti non vuol dire avere gli occhi chiusi ci sono delle esigenze chiaramente soprattutto nelle alberature stradali cittadine ci sono delle esigenze ovviamente di fine vita di pericolosità e fine vita di piante un po' vecchie eccetera e di pericolosità in cui ovviamente siamo sempre stati a favore di un dialogo e questi parametri non possono essere non accettati. Gli alberi grandi nei nostri viali hanno funzioni importanti di cui la gente anche gli amministratori spesso quasi si dimenticano oggi in particolare c'è il problema della riduzione della CO2 non è che le cose le debbano fare soltanto i capi di Stato ma i problemi della riduzione di CO2 attraverso gli alberi che è lo strumento più efficiente bisogna pensarci anche nelle città per esempio gli alberi grandi di grandi dimensioni sono quelli che ovviamente ne assorbono di più tra l'altro nelle strade gli alberi di grandi dimensioni gli alberi comunque con le foglie riducono l'inquinamento del particolato per esempio perché lo assorbono le cose oltre a essere e danno ombra oggi con i cambiamenti climatici con l'incremento delle temperature non è più uno scherzo il danno ombra nelle città c'è una bolla di calore studiata misurata e tutto il resto per tanto cemento tanto cemento asfalto per cui le temperature all'interno delle città spesso in estate sono di 4-5 gradi superiori alla temperatura dell'area circostante 4-5 gradi in più vuol dire tenere accesi i condizionatori moltissimo spendere un sacco di energia stare peggio perché non è una cosa confortevole ma questo vuol dire gestire bene la città anche attraverso il verde nelle ultime elezioni amministrative dello scorso mese è stato il sindaco più votato fra i vari candidati a primo cittadino che erano presenti nei comuni della provincia per nicola barbieri ad appena 32 anni è iniziato il secondo mandato da sindaco di mondolfo ascoltiamolo intervistato negli studi di rossini tv nella tornata elettorale dello scorso 3-4 ottobre è stato il sindaco più votato fra i comuni della provincia chiamati alle urne a indicare i loro primi cittadini nicola barbieri è stato rieletto sindaco di mondolfo con un 84 per cento di preferenze che gratificano il lavoro di un'amministrazione giovane come quella di barbieri che ad appena 32 anni ha cominciato il suo secondo mandato da sindaco del quarto comune più popoloso della provincia di pesaro orbino è un bellissimo risultato elettorale che ci onora ma che ci consegna anche una grande responsabilità che è quella di continuare nel percorso iniziato in questi ultimi cinque anni nello scorso mandato che è stato un mandato di di fatti con tanti progetti conclusi e tanti altri che sono stati avviati siamo molto contenti ringraziamo i tanti cittadini che ci hanno sostenuto sin da subito abbiamo iniziato a lavorare perché c'è ancora tanto da fare per migliorare la qualità della vita e il benessere della comunità di mondolfo e marotta un mandato che è ricominciato fra priorità impellenti e progetti di ampio respiro da coltivare attraverso il piano nazionale di riprese e resilienza intanto ci sono i tanti progetti che abbiamo avviato che dobbiamo concludere come l'adeguamento sismico della scuola media fermi restauro del bastione sant'anna nel centro storico di mondolfo e l'ampliamento del cimitero comunale poi ci sono altri progetti che sono stati finanziati che abbiamo finanziato e che avvieremo con i lavori nei prossimi mesi come ad esempio il percorso ciclopedonale che collega cento croci a san gervasio sull'illuminazione pubblica gli interventi su viale carducci quindi sulla zona mare e poi anche tanti altri progetti legati alla manutenzione del territorio e alla sicurezza sicuramente ci si attende molto dal piano nazionale di ripresa e resilienza come comune struttureremo la macchina comunale per proseguire al meglio con le progettazioni perché è importante progettare il futuro della della città per partecipare ai sempre più bandi di regionali ministeriali anche europei per ottenere appunto i fondi e toglierci delle soddisfazioni sicuramente vorremmo mettere mano negli impianti sportivi ma anche nei poli culturali quindi riqualificando gli spazi esistenti ma perché no anche creando creandone di nuovi per dopo i campionati mondiali big game tenuti sia pesero la pesca sportiva resta di casa nelle marche anche per le competizioni in acqua dolce è stata infatti presentata oggi la gara nazionale fipsas di pesca alla trota in programma sul fiume esino domenica 28 novembre in gara sono attese 50 coppie sono già arrivate iscrizioni da tutta italia si tratta di una competizione voluta dalla regione marche che l'unica autorizzata dal ministero della transizione ecologica a emettere trote autoctone sterili nei corsi d'acqua grazie all'approvazione di un progetto pilota che consente di prolungare seppur di un mese il calendario di pesca e il comune di pesaro aderisce a in marcia e in movimento per akimi l'iniziativa promossa per ricordare la giovane pallavolista afghana decapitata dai talebani perché inseguiva il suo sogno di scegliere la vita che desiderava domani sabato 20 novembre alle ore 15 i sindaci e gli amministratori locali marceranno per ricordarla fino al campo scuola di via respighi lunedì 22 novembre sarà invece il giorno di santa cecilia patrona della musica e pesaro città creativa unesco celebra l'evento con quattro appuntamenti si comincia domani alle 18 e 30 alla chiesa dell'annunziata presentando il disco d'arte a casa domenica alle 18 al teatro sperimentale appuntamento con la 62esima stagione concertistica che propone il violoncello di fama internazionale enrico dindo accompagnato dal piano di monica cattarossi doppio appuntamento lunedì giorno di santa cecilia alle 18 al museo nazionale rossini il concerto di musica antica dum aurora finem daret alle 21 allo sperimentale il consueto concerto di santa sicilia del conservatore rossini con un programma interamente dedicato al 700 musicale e domenica 21 novembre è la festa degli albri e nell'occasione il comune di gabice mare e legambiente circolo il ragusello di pesaro pianteranno un albero dedicato ai bambini nati durante il 2021 la piantumazione sarà alle ore 10 al giardino di viale della vittoria e domani si torna a parlare anche delle futuro della strada delle silicate alle 9 30 a palazzo montani antaldi di via passeri a pesaro si trae infatti il seminario la strada consolare flaminia fra pesaro e gabice sicurezza sostenibilità e opportunità di valorizzazione pesaro città della bicicletta pesaro candidata capitale italiane della cultura 2024 due etichette che si fonderanno domenica nella allecat race una gara in bicicletta che si mescola ad una caccia al tesoro o meglio ai tesori culturali della città sarà questa all'allecat race l'iniziativa che domenica dalla palla di pomodoro innescherà una corsa ciclistica guidata da una serie di indizi si tratta di un progetto inserito nella candidatura a pesaro capitale della cultura 2024 una candidatura che non poteva non includere la sempre più diffusa cultura della bicicletta tiene insieme un po di elementi cardine della nostra candidatura innanzitutto l'idea di una cultura diffusa diffusa nei luoghi diffusa anche nelle modalità di fruizione la bicicletta assieme alla sostenibilità in generale un elemento forte della candidatura del racconto non solo per provare a vincere ma per rafforzare appunto questi assi fondamentali della della cultura cittadina e quindi questa formula di allecat che è una sostanzialmente una sorta di caccia al tesoro in bicicletta che insomma toccherà tutti i vari luoghi della della città sarà un alley cut race con luoghi a sorpresa da scoprire attraverso gli indizi che emergeranno dall'iniziativa coordinata dalle associazioni periferica e cicloferica ad essere certi solo i punti di partenza e di arrivo la palla di pomodoro alle 9 il centro pescheria alle 12 con tanto di premiazioni i premi vanno dalla bici più originale al miglior outfit fino al primo premio di 5 biglietti per il malato immaginario primo spettacolo della stagione di prosa 2022 è un percorso che si scopre solo il giorno della gara noi daremo delle indicazioni su luoghi da andare a scoprire non c'è un ordine prestabilito quindi il partecipante sceglie in auto ma in autonomia che percorso svolgere a seconda di quali luoghi conosce meglio e il bello appunto è la sorpresa della giornata quindi non è una corsa contro il tempo è una sfida con se stessi per vedere se riconosce i luoghi quindi la cosa divertente interessante appunto è questa è che il fatto che non è una sfida atletica ma è una caccia al tesoro con degli indizi quindi è divertente costruttiva perché poi magari ci si copia tra tra i vari partecipanti quindi è diversa di una gara di una gara sportiva è una scoperta della della città come si fa partecipare allora basta mandare una mail c'è tutto nel nel portale di pesaro 2024 e l'importante sarebbe soprattutto per i minori l'uso del casco avere una bicicletta non c'è bisogno di una bicicletta professionale va bene di qualunque tipo anche senza marcia e avere una fotocamera quindi basta il cellulare e anche un cellulare che legge QR code perché molti molti indizi molte nozioni sui luoghi che andrete a scoprire si scopriranno attraverso un QR code e proprio in questi minuti appena iniziato un lungo weekend di sport partito con l'ital service che nel campionato di calcio 5 ospita ora l'olimpus roma al palafiera domenica invece nel calcio la vispesero ospiterà al benelli la carrarese mentre il fano del nuovo allenatore cappellacci e debuterà in trasferta sul campo dell'alto casertano lunga trasferta anche per la fiorini pesaro rugby che sarà niente meno che a catagna e match esterno anche nel volley per la megabox vallefoglia impegnata a firenze ma a chiudere questo ricco weekend di sport sarà la carpegna prosciutto basket pesaro che domenica alle 20 e 45 sarà in trasferta contro la vanoli cremona e ascoltiamo proprio il pregara di questo match fondamentale per la vl in un estratto della conferenza stampa che coach luca banchi ha tenuto questa mattina allo spazio con ad di pesaro la partita di domenica presentiamola partendo dalle caratteristiche dei nostri avversari che sulla scia di una ottima stagione sono tornati a esprimere una palagnesto di qualità ad alti ritmi con giocatori atletici destinati a diventare protagonisti in questo campionato gerarchie già abbastanza chiare ben definite quindi la partita sicuramente nasconde delle insidie dal punto di vista tecnico tattico però l'esperienza ci insegna che noi intanto siamo a combattere i nostri conflitti nel senso che non siamo riusciti fino ad oggi ad esprimere quella qualità di gioco e quella continuità di rendimento che ci permettano di competere ma questo è il campionato di serie a voglio dire è spietato non soltanto quando sono i grandi nomi come squadre come milano bologna a giustificare lo sforzo che serve per per competere ma anche quando si parla di squadre non così blasonate la qualità di pallacanestro è molto alta allora non fossimo in grado di replicare a questo a questa a queste potenzialità che anche una squadra come cremona nella metà campo offensiva diventa difficile perché ci sono tanti giocatori potenzialmente in grado di diventare protagonisti quindi niente credo che stiamo procedendo nella nostra preparazione consapevoli delle delle loro caratteristiche del momento che stiamo vivendo e dell'estrema urgenza che c'è di conquistare vittorie che possano dare un senso agli sforzi che stiamo facendo ogni giorno per diventare una squadra migliore e con questa intervista coach luca banchi si conclude questo nostro telegiornale rossini news del venerdì e anche questa nostra settimana di notiziari serali prima di salutarci vi ricordo qualche appuntamento a cominciare dalle 20 di questa sera perché il venerdì è la serata del valle foglie pian del bruscolo magazine il telegiornale del territorio condotto da andrea sabatini con i servizi di edoardo orazzi che va in onda alle 20 con prima replica alle 23 e 15 e poi tante repliche dal sabato al martedì questa sera la prima serata comincia invece con mare magnum festival il pesce nelle tavole pesaresi potrete rivivere i momenti di questa prima edizione del festival del pesce pesarese e della filiera ittica locale alle 21 e 20 a seguire alle 21 e 40 entriamo nell'allegria e nella magia natalizia del garden center florio appuntamento dunque alle 21 e 40 mentre domani sabato si diamo già qualche appuntamento a cominciare da quello che alle 13 e 30 vede il nostro format we pesero tv in accordo col comune di pesero ospite della puntata sarà l'assessore all'operatività enzo belloni e ancora l'informazione su rossini tv non si ferma con questo tg ma continua con le buongiorno rossini la nostra rassegna stampa del sabato come sempre in diretta alle 7 e 20 questo weekend conduttore della rassegna sarà antonio astuti ed è davvero tutto per questo nostro telegiornale da parte mia non resta che augurarvi buona serata e un buon weekend sempre in compagnia dei programmi di rossini tv di rossini tv